eccoci di nuovo insieme ora si parla di pallacanestro maschile coppa italia del massimo torneo italiano finale ai 9 purtroppo la new basket brinzi non ce l'ha fatta perso 67 73 contro venezia nella finalissima vittoria di venezia votata 158 162 164 dai bookmaker per quanto riguarda la cronologia dell'incontro 18 8 primo quarto 34 30 secondo 50 43 il terzo poi insomma il vantaggio di venezia è continuato e sa di fatto che brindisi perde questa occasione di vincere la coppa italia anche se i miei meriti per loro vanno tutti per aver raggiunto la finale dopo tanti anni di sacrifici di serie a soprattutto che continuano a mantenere brindisi per venezia la sua prima coppa italia della sua storia quindi ribadiamo venezia batte brindisi nella finalissima della coppa italia al campionato italiano di serie a di pallacanestro maschile professionistico per si stanno altre a 6 stanno assiste ciao Ciao!